Buongiorno, Vincenzo Longo dalla Sala Operativa di G. Europa contrastata in una mattinata che vede ancora protagonista all'Euro dopo la conferenza stampa di ieri di Draghi. Sebbene il numero uno della BCE si sia travestito da Colomba dopo qualche sua dichiarazione troppo aggressiva di qualche settimana fa a Sintra, il mercato sembra non avergli dato ascolto. Draghi è stato poco convincente anche perché si è lasciato sfuggire che la politica monetaria potrebbe essere rivista in autunno, così come il mercato si aspettava. Le aspettative del mercato di fatto non si sono spostate rispetto a qualche giorno fa. Crediamo pertanto che la riduzione del quantità di vising potrebbe partire dal prossimo gennaio, con acquisti che scenderanno dai 60 miliardi attuali a 40 miliardi al mese, mentre per il rialzo dei tassi dovremo attendere almeno la metà del 2018. Gli acquisti sulla moneta unica si sono rafforzati per tutta la notte, con il cambio euro-dollaro che questa mattina ha rivisto i massimi d'agosto 2015, arrivando in area 1,16 e 75. A favorire questo movimento è anche la debolezza del biglietto verde, complice delle nuove notizie che stanno arrivando sul caso Russiagate. Proprio le vendite sul biglietto verde hanno riportato così il dollar index sotto 94 punti, questa mattina nuovi minimi dal referendum della Brexit dello scorso anno. Ora tutte le attenzioni vengono rivolte alla Federal Reserve la prossima settimana. La Yellen dovrà essere più brava di Draghi nel dare un messaggio più accomodante agli investitori, visto i segnali che stanno arrivando dalla sfera economica e da quella politica statunitense, che sembrano essere ancora poco convincenti e gettono ombre sulla sostenibilità della crescita del paese a stelle strisce. A conferma di ciò i Fed Funds Futures stanno spostando lentamente le aspettative del prossimo rialzo dei tassi già a inizio 2018 e non più entro dicembre come ha sempre sostenuto la Fed. Un atteggiamento troppo ostinato verso il rialzo dei tassi negli Stati Uniti potrebbe iniziare a nervosire così gli operatori dando seguito a delle vendite. Per oggi è tutto, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona giornata e buon trading.